Buonasera, ci troviamo nella chiesa di Maria Santissima da Fontenova, a Musmanotermi. Abbiamo un concerto di Porto Campani. Ecco, eccole. Ecco, eccole. Allora, abbiamo un concerto di Porto Campani. Allora, questo è il campanone, là c'è la menzana e là ci sono i rossonelli, vedete? Ora finiamo la distesa della menzana delle 18 e 27. Allora, adesso riprendiamo la distesa della campana menzana delle 18 e 27. Morendo, ho fatto l'esperienza, batti mezz'osso la campagna tisbara, sopra le tutte le aziende. Allora, con questo e voi vedete l'assonanza che state visitate, c'è anche il corpo. Allora, con questo e voi vedete l'assonanza che state visitate, c'è anche il corpo. Allora, con questo e voi vedete l'assonanza che state visitate, c'è anche il corpo. Allora, con questo e voi vedete. Allora, con questo e voi vedete. Allora, con questo e voi vedete l'assonanza che vi rinnoviamo a vedere, ci sono le zone a poche. Allora, con questo e voi vedete. Allora, con questo e voi vedete che vi riuscite, vi riuscite a vedere. Agavevo una volta alla stessa questa Baia. campanina piccola allora ragazzi a questo punto riprendiamo battimento ossa campanina piccola vedete allora quindi godete battimento ossa campanina piccola e sentite dopo a dopo ecco vedo anche il battimento su campanina piccola qui finono e la campana menziana quella qua qua c'è il campanone e l'altro sono lo stanelli allora con questo vediamo al prossimo video ciao a tutti